La prima parte di programma ed entriamo, come vi dicevo, nella cronaca di cui non si parla mai, purtroppo non si parla mai, però di mezzo ci sono le persone che per noi danno la vita, la danno sotto tutti gli aspetti dal punto di vista del lavoro, delle energie, del rischio e la danno a scapito della loro stessa esistenza, che non è soltanto un tipo di tributo fisico, è anche una questione economica, di difficoltà economiche, di difficoltà di organico, verso un corpo per il quale noi dovremmo solo essere grati e dovremmo lavorare al 100%, è il tema dei Vigili del Fuoco, ne parliamo con Carmelo Barbagallo, ciao Carmelo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e alle spettatori. Ciao Carmelo, noi ci siamo risentiti perché mi è dato un messaggio che mi ha molto colpito, che tu per l'appunto parlavi del sottorganico che purtroppo ancora caratterizza la vostra categoria. Ecco, io volevo fare in modo che tu ne parlassi anche da noi in televisione per far capire ai nostri telespettatori la gravità della situazione che si sta vivendo in questo momento. Sì, sì, diciamo che da un decennio denuncio la gravità delle carenze di organico in ambito nazionale ma soprattutto in territori come quello siciliano dove purtroppo per ogni emergenza dobbiamo aspettare che arrivino altre forze dal resto d'Italia. Non perché vogliamo un'autonomia, perché siamo siciliani o perché ci vogliamo dividere dal resto d'Italia, però l'amministrazione e la politica dovrebbe capire che la Calabria, la Sardegna e la Sicilia, così come aveva detto anche l'ex capo del corpo Parisi, hanno delle peculiarità uniche e si deve incentivare questi territori con risorse, uomini, mezzi, formazione, perché è cambiato lo scenario, non è più quello di un ventennio passato, dove le emergenze si susseguono e noi abbiamo grosse difficoltà. Oltre questo ci ammaliamo, ci facciamo male e siamo totalmente lasciati all'abbandono. Un'altra tematica che hai sollevato è quella legata alla negligenza della politica, che al di là della questione dei vigili del fuoco sembra essere assente dal tuo punto di vista anche per quanto riguarda il cambiamento climatico, perché ormai gli incendi sono sempre più frequenti e si fa sempre di meno per contrastare il fenomeno, Carmelo. Sì, sì, dovrebbe fare riflettere la questione climatica, ti faccio un piccolo accenno già sulla Sicilia stesso. Stamattina avevamo due gradi, dopo 3-4 ore ne avevamo 20, questa è una cosa che deve fare riflettere non poco. I cambiamenti climatici dobbiamo starci molto attenti perché all'improvviso, ripeto, il clima cambia e dal sole ti può arrivare un ubifraggio e ci potrebbe lasciare impreparati. Impreparati perché abbiamo attrezzature che non rispecchiano gli interventi che andiamo ad effettuare, perché ripeto, se non si investe sull'attrezzatura, sulla formazione e sull'aumento di organico, avendo delle gradutori anche aperte come la procedura speciale, come il concorso pubblico dove ci sono tantissimi giovani, come un corpo di volontari che potrebbe essere utilizzato come risorsa per i permanenti, stabilizzando anche loro chi ha la volontà e chi è capace di poter effettuare questo meraviglioso lavoro che è il vigile del fuoco, sicuramente si potrebbero rimpinguare gli organici perché le carenze sono veramente abnormi, non parlando delle mancanze per varie qualifiche, ad esempio mancano i capi squadre, i capi reparti, si fa difficoltà a poter comporre le squadre operativi di soccorso. Si parano gli occhi rispetto a queste difficoltà che abbiamo, fanno aspettare tempi biblici per bandire anche un concorso interno, dove ci sono persone che aspettano 23-24 anni per poter fare un passaggio di qualifica e poter garantire così lo smaltimento delle gradutore, perché se si fanno i passaggi di qualifica viene automatico l'ingiovanimento del corpo nazionale, perché se uno diventa di un grado superiore necessita il grado inferiore. E un altro tema, infatti Carmelo, è quello legato alle cosiddette nuove reclute, perché ovviamente c'è una difficoltà di organico per quanto riguarda i vigili del fuoco e dunque c'è anche difficoltà per portare nuove leve, nuove forze all'interno del corpo nazionale. Ad esempio i nuclei specialistici riscono la chiusura, la sessione navale è totalmente smantellata, o quotidianamente vanno persone in pensione, non vengono rimpinguate. All'interno di questa sezione navale purtroppo i passaggi di qualifica sono diventati una chimera. I sommozzatori sono sottodimensionati ugualmente, ad esempio se andiamo a prendere il nucleo di Orbedello, dove quello che è intervenuto sulla costa Concordia è stato dismesso, così come è stato dismesso il nucleo sommozzatore a Brindisi. Nel resto d'Italia non va meglio, perché vengono sempre sottodimensionati a causa dei pensionamenti e a causa dei passaggi di qualifica anche ad altra mansione, e purtroppo non si investe su questa bellissima qualifica, questa bellissima specializzazione che sia la sezione navale che il nucleo sommozzatori, che è veramente di grosso aiuto al soccorso generico, perché nei rubi fragili intervengono anche i sommozzatori. La sezione navale può essere utilizzata nei rubi fragili, perché ormai diventano fiumi in piena anche le strade, pertanto la sezione navale può essere utilizzata anche in questo. Quando ci sono, visto che abbiamo porti stuventi e magnifici, dove c'è un traffico non indifferente, senza sezione navale il soccorso tecnico urgente rischia di non esserci più. La stessa cosa capita nei generici, nel soccorso generico, dove quotidianamente abbiamo il rischio di chiudere le sedi di servizio per carenze di organico, o perché mancano le qualifiche. Mancando le qualifiche non puoi accingere perché non abbiamo lo straordinario, non si possono utilizzare impropriamente altro personale, perché non è formato e si rischia di incorrere a denunce, qualora non dovessimo fare in maniera efficace ed efficiente il nostro lavoro, perché ognuno ha la sua mansione, non si può usare impropriamente il personale. Pertanto chiediamo all'amministrazione e alla politica di non darci qualche sulle spalle, di non fare le passarelle quando i vigili del fuoco sono al centro dell'attenzione, perché lavorano in qualche emergenza, perché l'Italia è un territorio di disastri annunciati, lo sappiamo tutti, ormai non sono qui io a dirlo, ma è una cosa che si verifica quotidianamente. Il clima attualmente è clemente in tutto il territorio, però non dobbiamo dormirci sogni tranquilli sopra, perché all'improvviso potrebbe cambiare lo scenario e poi tutti lì a dire io l'avevo detto, io l'avevo fatto e poi a lavorare e rimetterci la pelle sembrano i vigili del fuoco. Carmelo io ti devo salutare purtroppo per motivi di tempo, io però ti devo ringraziare, ogni volta che è possibile cerco di darti anche 5 minuti, 10 minuti, perché è un tema importante, bisogna cercare di fare il più possibile dal punto di vista informativo, spingere sull'acceleratore per far sì che questi messaggi possano arrivare alle istituzioni o quantomeno alla classe dirigente, quindi Carmelo grazie di cuore, speriamo bene insomma per il futuro. Grazie a te Tommaso e a te le spettatori. Grazie, grazie a Carmelo Barbagallo per il suo lavoro e la sua attività. Noi prima di chiudere andiamo sempre avanti con la nostra rassegna video, perché il tema vigili del fuoco è più che mai un tema sanitario.